Ci siamo? Si aprono le gabbie, parti! Cavalli della quinta corsa del pomeriggio Rinuncia a partire Zuoer più veloce sulle prime Big Muschietti che poi lascia spazio a Dottor Zivago In terza posizione si sistema con la giuba bianca Baldissero, poi in quarta posizione Fiore del Drago E come detto Zuoer che chiude in coda al gruppo, prima parte che è diventata molto veloce Contrariamente a quelle che erano le aspettative, davanti c'è Dottor Zivago che ha circa un paio di lunghezze di margine rispetto a Big Muschietti Poi in terza posizione Baldissero in coda, circa 10 lunghezze dal terzo, agisce la coppia formata da Zuoer E Fiore del Drago che ha perso un pochino contatto, di là veloce sulla retta opposta Dottor Zivago Non conosce sosta la sua andatura, sempre Big Muschietti che prova a tenere botta In questa fase ha mollato un po' la presa rispetto ai primi due Baldissero E poi ancora Fiore del Drago e Zuoer che galoppano in coda Come detto c'è un'andatura molto brillante, si è superato il vecchio Rudere senza variazioni di rilievo Con ancora Dottor Zivago in vantaggio Big Muschietti che in seconda posizione prova sempre a restare vicino al suo rivale Poi ancora Baldissero, Fiore del Drago e Zuoer con il gruppo che si è ulteriormente compattato Perché Dottor Zivago ha speso un patrimonio per essere lì E allora Big Muschietti prova sempre a mettere pressione con la sua andatura Zuoer che si avvicina percorsi più esterni insieme a Fiore del Drago Che rimane in quarta posizione, scivola in coda Baldissero Siamo sul finire della curva Ancora Dottor Zivago con Antonio Siri in sella in vantaggio Nei confronti di Big Muschietti che prova a galoppare percorsi più esterni Zuoer che invece sceglie di andare di dentro con Dottor Zivago Che adesso chiama maggiore impegno C'è sempre lui in vantaggio Zuoer che di dentro prova a dargli un attacco Big Muschietti che si sposta percorsi più esterni Per non cercare il riferimento e galoppare in maniera autonoma Dottor Zivago è ancora davanti ma è sotto frusta Allora Zuoer prova a metterlo in difficoltà Ma Dottor Zivago riparte sotto la spinta del suo interprete Big Muschietti che non ha cambiato marcia Sempre Dottor Zivago e oggi porta a casa la missione Nei confronti Big Muschietti che si avvicina ma tardivamente E al terzo posto Zuoer Palla avanti e pedalare Oggi per Dottor Zivago non c'è stato nessun avversario Riuscito a vincere con Antonio Siri in sella Per il trading e i colori di Francesco Natalizi 3 al primo, 2 al secondo e poi Zuoer per il terzo Per Dottor Zivago vittoria numero 5 In carriera un figlio di Animal Kingdom 2,75 la quota conclusiva 3,2 e poi 5 Da Capannella per la Quint Tutto Per Dottor Zivago Per Dottor Zivago Grazie a tutti